Oggi siamo a Valmadrera in provincia di Lecco, presso lo stabilimento di Wagner, nota multinazionale, specializzata nella produzione di sistemi complessi e personalizzati, ma anche di accessori e componenti per la verniciatura industriale, sia a liquido che a polvere. Siamo in compagnia di Michele Maffoni, direttore vendite dell'azienda, e nello specifico ci troviamo all'interno del Finishing Caffè, un vero e proprio laboratorio prove dove è possibile testare e studiare nello specifico tutte le soluzioni proposte dall'azienda. Michele, da cosa deriva la necessità di dotarsi di un laboratorio prove all'interno dell'azienda? La necessità deriva dalla filosofia che Wagner ha sempre avuto e vuole avere nel tempo nell'offrire al cliente una soluzione applicativa dove il cliente possa constatare prima della definizione dell'ordine l'effettività della soluzione. È ovvio che questa fase a livello processuale di vendita è molto delicata, in quanto in questo laboratorio test riproduciamo a livello industriale quella che sarà la situazione con le ultime tecnologie, come vedete dentro di me, la situazione che il cliente avrà dopo l'installazione. E quindi è una definizione, una concretizzazione di quello che poi Wagner potrà garantire a livello di funzionalità. Ecco, per l'appunto parliamo di tecnologie. Di quali attrezzature è dotato il laboratorio prove nello specifico? Noi abbiamo attrezzato il laboratorio prove seguendo quelli che sono i nostri core business, che sono, come vedete dietro di me, scusate la ripetizione, è il powder center di ultima generazione Super Center Evo, che fa riferimento alla cabina organica, poi lateralmente c'è un sistema completo di smaltatura, quindi di polvere inorganica, e adesso abbiamo implementato il laboratorio prove per la parte liquida. Quindi diciamo che in generale il laboratorio prove è un'implementazione di quello che è il servizio offerto al cliente? Sì, prima della definizione dell'ordine è sicuramente un modo per capire e quindi concepire la soluzione più adatta al cliente, capire quali sono le esigenze del cliente. Una volta che abbiamo installato quello che è il sistema, noi il laboratorio prove usiamo come servizio academy per svolgere dei training formativi per gli operatori del cliente e quindi sicuramente risulta essere un valore aggiunto. Grazie Michele. Grazie. 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 Grazie a tutti.